Oggi mi metterò alla prova con i passatelli. Gli ingredienti sono 4 uova, 150 grammi di pane grattugiato, 100 grammi di parmigiano reggiano grattugiato, 60 grammi di farina doppio zero, sale, pepe, noce moscata grattugiata e scorza di limone grattugiata. In una ciotola mescolo uova, sale, pepe, noce moscata e scorza di limone. In un'altra ciotola invece mescolo pane grattugiato, parmigiano e farina. Quindi unisco i due composti un po' alla volta e rimescolo fino ad ottenere un impasto suono. Ottenuto il composto lo lascio a riposare per 30 minuti circa. I passatelli vanno passati in uno schiacciapatate e cotti in brodo per qualche minuto. I passatelli sono pronti. Speriamo bene.